Hello people of the internet Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono a te e Best Oggi sono con l'amica di mia sorella Mentre mia sorella sta di sotto a panna a mangiare Anche da 8 anni però sta con mia mamma 9 Oddio non ho appena fatti 9 Che sorella Allora In 3 settimane non sono usciti i video Perché? Allora la prima settimana Siamo andati da Davide e Dove vi darò la bocchina Siamo andati da Davide e Anthony E devo ancora montare il video Perché mi sono persa il programma Cioè mi si è fatto il programma Quindi non ho più i video Poi la seconda settimana Era il mio compleanno Era il mio compleanno E quindi cioè io ho fatto video Ma ci sono persone che Le mamme non volevano che mi mettevano le rovacce del video Scusa ma non lavi la cosa piena Sì ma 5 secondi hanno bene E invece Stata settimana qua non ho avuto tempo di fare video Perché Stava da mia nonna E era il compleanno di quello Di quell'altro Di quell'altro Quindi niente Quindi Riprenderemo il processo a fare video Cioè io riprenderò Loro non so E strano con me E adesso stiamo provando a girare Il rischio al gusto Ma non è andato molto bene E'amo due bustine di cose Non è andato molto bene In pratica ho vomitato due volte Ho vomitato e ho vomitato E ho ancora l'acido in bocca E ho messo a settimana Neanche sui sceno E Quindi riprenderemo il più peso a fare video Quello è ovvio E niente Io vi saluto Vi ringrazio Forza Roma No Fermo Aventaria Non può Facare più telefono Io Cioè Riprenderemo il più peso a fare video Come vi ho detto E Scusatemi Perché non ho uscito I video Anche se non me lo so Niente Lo so Cioè sono i bookies Che non fanno i video da due mesi Anche se Lorenzo Ha lasciato E niente Riprenderemo il più peso Io vi saluto Se vi è piaciuto il video So che non vi è piaciuto Però ok Fate quello che volete Iscrivetevi al canale Perché quello è sempre Che l'ho fatto molto easy E beh E niente E Goodbye E soffiamo la porta Ciao